Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Ci troviamo all'interno del nostro albero E ora che ci penso, ogni puntata di questa serie A parte cominciare gran parte la notte E cominciare la notte qui non va bene perché è pieno zeppo di mob E i mob non li vogliamo nel nostro albero sacro Ogni santa puntata che faccio Le inizio dicendo salve a tutti i Blazers Benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Ci troviamo qui nella nostra casa Perché è una frase aggiunta all'intro che ormai dico sempre Non so neanche bene il motivo Comunque dormiamo Perché la prima cosa che bisogna fare in questa serie In una puntata è dormire Ormai mi tocca farlo sempre Allora ragazzi voglio cominciare questa puntata con una dichiarazione Voglio dichiarare ufficialmente a tutti voi che starete vedendo Quindi lo sto dicendo a decine di migliaia di persone Che sono stupido Sono stupido e probabilmente la mia mente è talmente stanca Che l'intelligenza ormai è una cosa del passato Cioè sono davvero diventato stupido L'altro giorno sono stato qui a sclerare Per cambiare i blocchi di terra bruciata In blocchi di terra Quando basta prendere la zappa E fare così Guardate questo è un blocco di terra bruciata Tac Abbiamo anche la nostra zappa di diamante Burial donor E diventa un blocco di terra Ha in che senso pensarci Perché nelle coltivazioni, nell'agricoltura I campi, una volta che sono esausti Che hanno finito il loro ciclo di coltivazioni Vengono vangati Vengono ribaltati Per portare, diciamo, in superficie La terra più nascosta Che conserva più valori nutritivi E quindi ha anche senso il fatto che tu zappi la terra E la terra bruciata diventa terra fertile Certo questa cosa però non la voglio In più, in più questa cosa Io la... Continuo a sbagliare Io la sapevo La sapevo perché Me l'avete già detto mille volte In mille puntate Però me la dimentico E non lo so ragazzi Sarà che in questo periodo Ho molte cose per la testa Sono anche stanco Però nello stesso tempo Mi sto divertendo un botto A fare la serie Perché sono pieno di idee Quando sono pieno di idee Sono davvero molto gasato Ora al di là che questo lavoro È estremamente noioso Quindi lo faremo Lo farò al di fuori dei video Qui non ho fatto passare Per nulla tempo Da una puntata e l'altra Quindi la terra Non ha ancora L'erba non ha ancora Attecchito sulla terra Quindi ancora non ci siamo Deve mettere invece le liane Stanno crescendo tantissimo Tant'è che questa liana È arrivata al suo culmine Perché qui Non può scendere di più Perché c'è il fiore E nulla È figo Stanno crescendo davvero bene L'idea del portale È piaciuta molto E sono contento E oggi vorrei cominciare Con un'altra idea Nel mentre qui in casa Siamo ancora fermi Con l'arredamento Perché purtroppo Non è uscito ancora Lo snapshot Io voglio aspettare Questo fantomatico Nuovo snapshot Per vedere se mi inseriscono Altri blocchi decorativi Così Potremo in tal caso Decorare La casa Con nuovi blocchi E dargli un tocco Di novità Di freschezza Però sta passando davvero Un sacco di tempo E mi scoccia Non portare avanti Il lavoro della casa Quindi vorrei chiedere Anche a voi Che cosa ne pensate Mi conviene aspettare O volete Che inizio a farlo Magari in off screen E vediamo come va Non so Ditemi un po' voi Cosa ne pensate Io vorrei appunto Aspettare i nuovi blocchi Però se i nuovi blocchi Non arrivano Capite che È tutto inutile Io non so Quanto ci vorrà Per il prossimo snapshot Purtroppo Comunque ragazzi Detto ciò Devo andare un attimo A casa Nella nostra base storica Perché devo ricaricarmi Di un po' di cose Magari di fuochi d'artificio Di pollo Perché ho bisogno di cibo Le farm qui Non le ho ancora fatte E poi di alcuni materiali Che ci serviranno Perché oggi Voglio iniziare La farm All'interno della valigia Ispirata a Animali fantastici Ed eccoci di ritorno Nella nostra base Ho sentito uno strano suono Comunque entra Ah era morto Un iron golem Credo Comunque entriamo dentro La nostra casa No aspetta Non è questa la porta Ah questa porta Non si può aprire Entriamo in quella giusta Dunque ragazzi Dunque Andiamo al piano di sotto Voglio subito vedere Se ho uno slime block Non ho uno slime block Temo Però abbiamo dei pistoni Questi mi potrebbero servire Mi può servire sicuramente Il repeater Di slime ball Ne ho davvero poche Purtroppo E Di drop Qui Non ne ho Questa farm qui Non funziona Se sei lontano Ovviamente Quindi Era anche inutile guardarlo In realtà Ci servirà anche Un trip wire Quindi ci serve Esattamente Questi Tre elementi Quindi un lingotto Un bastone E un blocco E otteniamo due trip wire Hook In questo modo Ci potremmo fare Una chest Trappola Vediamo se ci avanzano Delle chest Non ci avanzano Delle chest Allora Quello che andremo a fare Principalmente Inizialmente Sarà il circuito Che apre La nostra farm Nascosta Dentro Alla chest Che cosa sto dicendo Allora innanzitutto Facciamo la nostra Chest trappola Utilizzo del Legno misto Perché avevo questo Qui in esubero Ci facciamo la Nostra chest E poi la chest Trappola Che si fa così Ora Il funzionamento È abbastanza semplice In realtà Avremo una chest Trappola Quindi andiamo A piazzarla giù Per capirci La chest Trappola Quando viene aperta Dà un segnale Di redstone Perché appunto È una chest Trappola Quindi se noi mettiamo La redstone E la apro Vedete Dà un segnale Di redstone Noi sfrutteremo Questa caratteristica E faremo in modo Che una volta Aperta la chest Si aprirà Sotto di noi Il pavimento Cadremo di sotto E finiremo All'interno di questa farm Dando l'impressione Che in qualche modo Siamo entrati All'interno della chest È solamente Un'impressione Ovviamente Non puoi letteralmente Entrare nella chest E costruirci Però Penso che in qualche modo Questa idea Potrebbe rendere giustizia Appunto All'idea Alla quale Mi sto ispirando Per fare questo Mi serviranno Due sticky piston Per l'appunto Dai repeater La redstone Che già abbiamo Una pressure plate Visto che abbiamo già Ah ne avevo Ne avevo già un po' Di tripwire In realtà Vabbè Ormai li ho fatti Quindi perché c'è una Barca qui dentro Non ha senso La mettiamo via Comunque Devo fare un attimo Mente locale E ricordarmi Esattamente Che cosa mi serve Il che non è Esattamente semplice Perché farà un circuito Molto improvvisato Che non mi sono di certo Inventato io Una cosa del genere L'avranno fatta già Milioni di utenti Però lo improvviserò Quindi così al momento Non so esattamente Che cosa mi può servire E di sicuro Non il comparatore Forse forse Va anche bene così Vediamo se ho Altra ossidiana Assolutamente no L'ossidiana mi servirà Mi servono le slime ball Perché devo fare Uno slime block Volevo prendere anche Della terra extra E anche della semenza E della bone meal Così da avere Diciamo da parte Un po' di materiale Anche per iniziare Una farm E diciamo Autosostenerci In questo modo Le ossa Non le ho Andiamo fuori Nella cessa Ci dovrebbe essere qualcosa No Non c'è più la bone meal qui Avevo un po' di ossa Però All'albero Quindi sfrutteremo quelle Mettiamo un attimo in ordine Buttiamoci di sotto Perché ho bisogno Dei polli Quindi dammi subito Della carne di pollo E la farm Tra l'altro È fottutamente piena Guardate Si è subito riempita E dovremmo Aggiungere qualche cessa Probabilmente Per il momento Tutto ciò Non ci interessa Non ho neanche fatto Altre polveri Da sparo Per avere Altri razzi Però ci pensiamo Dopo al ritorno Quindi ora Saltiamo Vogliamo E iniziamo A dirigerci Verso una palude Perché ho bisogno Di slime ball E quindi di slime È incredibile È incredibile quanto Velocemente io riesco A consumare I razzetti Quando registro Siccome voglio fare Le cose un po' Più velocemente Ne uso davvero tanti Per viaggiare In modo rapido Altrimenti sarei Molto più parsimonioso E qui Al momento Non sto vedendo slime Quindi questo è un problema Però Presumo E confido Nel fatto che Spawnerà Almeno uno slime In tutta questa palude enorme Perché ci servono Effettivamente Parecchie Slime ball Quindi cerchiamolo Ovviamente per quanto riguarda La farm che stiamo facendo Si tratta della farm Di animali Le farm Di ortaggi E cose di questo tipo Le farò Sopra l'albero O forse Sulle isole volanti Perché dalle vostre idee È uscito questo suggerimento Di utilizzare Le isole volanti Per fare le farm E non è una brutta cosa Vi svelo un altro progettino Che avevo in mente Volevo fare Prima o poi Un granaio Un granaio nuovo In stile olandese Quindi uno di quei Granai molto Molto ampi Colorati Circonti da enormi Campi di fiori Dall'azzurro Turchese A lilla A colori un po' Di questo tipo Insomma E lì c'è uno slime Perfetto Andiamo a prenderlo È anche pieno Zeppo di mob Dobbiamo tipo stare Super attenti A queste orde Che stanno arrivando Quello che stavo dicendo È appunto Che volrei fare Questo granaio E potrei Profittarne E fare il granaio Esattamente Su una delle isole volanti Per fare ciò Potrei ispirarmi Qui entra in gioco Anche un'altra idea Che avevo Messo in lista Perché avevo avuto Tanto tempo fa Potrei fare Un granaio In stile Feel good ink Una canzone Perché si è aperta A caso La chat Non capisco Una canzone Dai gorillas Dove appunto Nel videoclip C'era questo Dove devo andare Non mi ricordo più Devo andare di là Credo C'era questo Il granaio Appunto questo Mulino a vento In realtà Che era su un'isola volante Ed era molto pittoresco Era tutto in stile cartone E niente Ci stavo Mi piaceva Trasportare in qualche modo Quell'idea in minecraft E potremmo sommare le cose E fare anche questa cosa Però concentriamoci Sulla nostra chest Per il momento Dunque Vediamo un po' Se abbiamo altra polvere da sparo Perché voglio i razzetti E uno Ho una polvere da sparo Anzi due Con quella che ho droppato Direi che non basta E razzetti extra Non ne ho Questo è un grosso problema Perché questa farla Non sta più producendo E quindi siamo ufficialmente Accorto di polvere da sparo Ehm Va bene Possiamo viaggiare in altri modi Nel caso Certo sarà scomodo Però Per il momento Lasciamo perdere Dato che abbiamo altro da fare Quindi Creiamo subito Il Lo slime block Che ci serviva Lasciamo giù le cose In esubero Mi è caduta nella tramoggia Vero? Mi sa di sì E fatto tutto ciò Ce ne andiamo Lontano Lontano Al nostro Jack Drusil Magari Potrei provare In qualche modo Ad avvicinarmi Alla All'elitra Launcher Ok guardate Ce l'ho fatta E lo usiamo Per spingerci Come ho fatto Come cazzo Ho fatto ad entrare? Oddio Mi sono Glicciato Con l'elitra E in realtà Non mi sono Glicciato Sono passato in mezzo Perché stavo planando Quindi ero alto un blocco Sono passato in quel buco E sono riuscito ad entrare Comunque usiamo L'elitra launcher Dicevo In modo da Velocizzare Il nostro viaggio Non mi ha dato la spinta Che speravo Però Vabbè Dai fa niente Qualcosa forse abbiamo guadagnato Ecco L'elitra launcher Potrebbe essere un ottimo sistema Per volare Da una parte all'altra Ne potrei costruire uno Però dalla parte opposta Della torre Perché Se no Devo fare inversione Perdo velocità E magari uno Nella montagna Che abbiamo vicino all'albero Potrebbe essere molto utile Devo vedere se è ancora fattibile Dopo che hanno messo la game rule Delle entità In un unico blocco Credo sia fattibile lo stesso Perché Veniva Fatto tramite un glitch Però Insomma Dobbiamo valutare Magari lo potrei fare Come Sistema di trasporto Iper rapido In minecraft Nel frattempo Noi siamo tornati Al nostro albero Quindi Cerchiamo di entrare Precisi nel portale In modo da Non farci male E da Essere Dritti dritti Dentro l'albero Ok Perfetto Mamma mia Che arrivo Fatto bene Questa volta Ho solo tre razzi Però Mi avanzano davvero pochi razzi E come a me si dice in gergo Quando finisci i razzi So cazzi Non lo dice nessun gergo In realtà Me lo sono inventato io ora E devo smetterla di dire Una freddura puntata Se no Vi discrivete in massa Dunque Vediamo un po' L'ossidiana Dov'è l'ossidiana Mi avanza dell'ossidiana Perché Sì Mi avanzano 5 Di ossidiana Potrebbero non bastare Però In tal caso Potrei anche utilizzare Delle fornaci Ho delle fornaci Ho delle fornaci Perché questo? Perché l'ossidiana e le fornaci Mi servono come blocchi Da affiancare Gli slime block Allo slime block Lo slime block È appiccicoso Ma I blocchi Ossidiana E appunto La fornace Non si attaccano Allo slime block E questo ci permette Di costruire Senza spostare blocchi Che non vogliamo spostare Quindi è molto importante Per il resto Per il resto Non saprei Prendiamoci della pietra liscia Per il momento E direi che siamo anche a posto Quindi scendiamo E come vi avevo già suggerito Questa era stata la proposta Che ha salvato anche questo vaso Che a molti non piaceva Ma che poi hanno cambiato idea L'entrata della farm Sarà esattamente qui In qualche modo Adesso dobbiamo capire Come ricavare lo spazio Tra l'altro Qui sotto abbiamo fatto il portale E a questo punto Questa parte E anche Quel buco Quaggiù Non sono più utili Cioè Non saprei cosa farmene Probabilmente finiranno Per essere sigillati Perché Per il momento Non saprei cosa metterci Dato che Il nether è qua sotto E la farm La facciamo da qui Quindi Iniziamo Semplicemente A togliere Questi blocchi Qui abbiamo un blocco Che non mi piace Perché è di colore diverso E per quanto abbia senso Che c'era il blocco verde Rimettiamo L'argilla Normale Quella in colore Che però Un colore ce l'ha Qui Andremo a mettere Invece la chest Quindi chest Trappola Sarà la nostra valigia Già l'ingresso Della nostra farm Starà esattamente Ora dobbiamo pensare A come fare Il tutto Tutto il resto Questo potrebbe Non essere semplice Prima di tutto Qui ci andrà Un pistone Che dovrà Trarre Il blocco E già questa cosa Non va bene Perché Qui siamo Troppo in alto Probabilmente Credo che convenga Allungare il pot Verso il basso Mettere La chest Trappola Qui E fare tutto Un blocco Più in basso Perché se no Temo che la cosa Potrebbe non funzionare Ok ho esattamente Sei blocchi Di hardened clay Per cui in realtà Mi piaceva che qui c'era Il blocco di legno Mi piaceva davvero Un sacco Però possiamo Effettivamente Sostituirlo E credo che sarà Comunque Abbastanza valida La cosa Cioè non dovrebbe Dispiacermi Vediamo un po' Sì Ci sta Ci sta E mi manca Qualche blocco Che dovrò Ricavarmi Poi Qua sotto Invece Metteremo Il pistone Che aprirà Il passaggio Quindi come funziona La cosa È molto semplice Esattamente qui Ci dovrà essere Un blocco Magari qua Devo sventrare un attimo Il tutto Perché ho bisogno Di spazio per lavorare E quindi Il blocco Che ci sarà qui Che potrebbe essere Semplicemente Un blocco di legno Dovrà essere Spostato dal pistone Che andiamo a mettere Ora Oddio Qui sotto siamo Al portale del nether Devo stare attento A non fare casini Ma Dobbiamo sfruttare Esattamente Questo spazio Quindi Che cosa succede Succede che qui Avremo Un pistone Proviamo un attimo A fare così Sono curioso Di vedere una cosa Non me l'ha piazzato Come dico io Purtroppo Ok Praticamente La chest Può essere messa Direttamente Sopra il pistone Già così Lo attiva Questa è una buona cosa Però Lo è Non so fino a che punto Perché Potrebbe risultare Scomoda Ok Comunque Il pistone In realtà va messo Molto più indietro Va messo qui E deve essere Sempre attivato Per chiudere Il passaggio Ovviamente Quando io aprirò La chest Si invertirà Il segnale E questo farà In modo Che si aprirà Anche la caduta Quindi quello Che dobbiamo fare Ora È Ricavare Molto Molto Spazio Qui sotto E Per fortuna Un po' di spazio Ce l'abbiamo E dopo Mille prove Ce l'ho fatta A fare La prima parte Del circuito Essenzialmente Apriamo la chest Si tira il pistone E si aprirà Un tunnel Che ci permetterà Di cadere Al suo interno È un po' Problematica la cosa C'è poco spazio Ho dovuto fare Un enorme giro Come vedete Dalla chest Abbiamo un segnale Di redstone Che viene allungato Dal repeater Trasportato qui Invertito dalla torcia E messo direttamente Al pistone Quindi quando apro Il pistone Si detrae Il problema È che Non riuscirò A mascherare bene Il circuito E lo spazio È davvero poco Perché il tutto Va inserito All'interno di un pot E poi tutto Il pavimento Che sto devastando Andrà chiuso È ripristinato Come all'inizio Quindi C'è davvero poco spazio Devo ingegnarmi Ma andiamo avanti Perché tutto ciò Ci porterà Più o meno Qui In questo punto Ragazzi Andremo a mettere Un altro mini circuito Quindi andiamo Andiamo innanzitutto A scavare un po' Di spazio E andiamo A scavare Ancora Qui sotto Siamo esattamente Dietro il portale Tra l'altro E mettiamo Un bel pistone Così Un Uno slime block Qui Lo slime block Dovrà essere circondato Da blocchi Che non può Appiccicare Perché se no È un disastro E per questo Avevamo portato L'ossidiana Quindi mettiamo Ossidiana qui Mettiamo Ossidiana Qui Qui E anche qui Perfetto Da questa parte Ce ne servirà una sola Infatti ce ne avanza una Succederà quindi Questo Devo prendere Semplicemente La redstone La piazziamo Qui sotto Prendiamo un repeater Lo mettiamo qui Verso il pistone E aumentiamo il delay Fino al massimo Dopodiché Copro con L'ossidiana Prendiamo La pressure plate E quando andrò Sulla pressure plate Il pistone Farà alzare Lo slime block Verso l'alto Con un certo ritardo Quindi succederà questo Se io ci corro sopra Non sono stato abbastanza veloce Pare Ci devo correre sopra Lui mi farà saltare Fino ad arrivare Qui sopra Ora Il problema qual è Innanzitutto Arrivo Molto Ma molto tardi E già questo è un grosso problema Mi chiedo perché Non succeda Come nelle prove Che ho fatto Dato che quando ho fatto le prove Era molto più efficiente Sta cosa Devo mettere un altro Repeater Temo Proviamo così No è peggio ragazzi È Fottutamente Peggio Ok ora ha funzionato Avete visto Mi ha fatto saltare molto in alto Riproviamo Corri E non arrivo esattamente in tempo Devo far girare in modo diverso il repeater Ho capito Quindi ho girato il repeater In modo da avere un massimo ritardo Con due repeater La pressure plate è un po' più vicina E quindi Vediamo Ok arriviamo esattamente in tempo Sullo slime block E ci fa saltare al massimo Perfetto Ora Quale sarà l'ultimo punto Sarà Far sincronizzare Il rimbalzo Con l'apertura Di questo pistone Perché Noi non vogliamo arrivare Dove siamo arrivati ora Ma vogliamo Uscire Esattamente Di fronte Alla chest Quindi dovremmo spuntare Riesco ad uscire Innanzitutto Yes Dovremmo spuntare esattamente Qua sopra E il pistone Si dovrà aprire e chiudere Al momento giusto Questo ragazzi Sarà il sistema Per entrare in questa farm Che per il resto Si svilupperà ancora più in basso E questo ci permetterà Di avere molto spazio Per fare tutto Quindi Arrivati in quel punto Tolto il meccanismo Della chest Ci sarà una mini scalinata Che ci porta dentro La casettina Che poi darà Sulla vastità Delle farm Che saranno appunto Tutte sotterranee Dobbiamo arrivare Sotto alla zona Del portale del nether Per avere Tutto lo spazio Che vogliamo Il problema Per ora È che È davvero molto difficile Fare tutto ciò Abbiamo poco spazio E Far incastrare tutto Riuscendo poi a coprire Il tutto Sarà molto difficile Anche perché Già così Si vede qua sotto Il circuito E questa cosa Non mi piace Devo trovare Una soluzione Per quanto riguarda La calibrazione Ed è il tempismo Tra i due circuiti Che abbiamo fatto Ci vorranno diversi test Quindi quello lo dovrò fare Da solo E cercare In tutti i modi Di far combaciare la cosa Però l'idea Più o meno È questa Spero che la cosa Vi stia piacendo Ovviamente Il video è durato tanto Perché ci ha messo Tantissimo A fare questa cosa Se avete consigli Ovviamente Datteli nei commenti E vediamo Di far funzionare Questo circuito Che darà il via Penso E spero Ad una bellissima farm Per il momento Io vi saluto Un saluto Da Eren Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.